La trasformazione digitale per noi e per i nostri clienti è sicuramente la sfida più importante per i prossimi anni. È una sfida in cui io credo che l'Italia avrà un ruolo importantissimo perché è comunque legata a tematiche di energia e creatività che solo noi italiani forse riusciamo a esprimere al meglio. Il tema digitale è sicuramente oggi un qualcosa che ci vede impegnati nel cercare di cambiare anche il nostro modo come system integrator di approcciare i progetti in quanto c'è sicuramente una necessità di avere una maggiore snellezza però allo stesso tempo questo ci sta permettendo di confrontarci con anche un'apertura verso mercati che forse una volta erano irraggiungibili ma che oggi la tecnologia ci permette di raggiungere con una certa facilità. Pensiamo alle sfide che possono derivare dalle aperture che il mondo del commercio elettronico ci permettono di avere davanti a noi e questo sicuramente è il punto per cui essere anche un partner oggi di SAP ci permette di avere un vantaggio competitivo sul mercato di valore assoluto. Io credo che SAP ci permetta di avere sicuramente una competenza come partner sulle tipologie di business che da anni fanno il maggiore asset di SAP stessa e allo stesso tempo ci permetta con le nuove tecnologie che oggi SAP è in grado di deployare se faccio un esempio della HANA Cloud Platform piuttosto che tematiche legate al commercio elettronico con Ibris e anche legate all'interazione con i clienti finali come Ibris Marketing ci metta in una posizione privilegiata rispetto a qualsiasi altro operatore del mercato dell'Information Technology in questa fase. Quindi io credo che sarà una sfida per i prossimi anni di grandissimo stimolo ma allo stesso tempo sarà un qualcosa in cui l'Italia sarà una protagonista assoluta. Grazie a tutti.